ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario megaderm informazioni commerciali titolare birbach srl concessionario birbach srl confezioni megadermos 28 sacchetti monodose da 4 ml formulazione olio di girasole olio di pesce olio di enotera additivi vitamina e 3 a 700 4416 ui barra chilogrammi additivi tecnologici bha e 320 217 mg barra chilogrammi costituenti analitici oli grezzi e grassi 100 per cento proteina grezza 0 per cento cellulosa grezza 0 per cento ceneri grezze 0 per cento 7 w6 acidi grassi 49 4 per cento incluso acido linoleico la 47 7 per cento e acido gamma linolenico gla 0 9 per cento 7 w3 acidi grassi 9 5 per cento incluso acido icosapenta inoico epa 4 7 per cento e acido docosexanoico dha 3 per cento indicazioni megaderma copyright un supplemento nutrizionale che contiene acidi grassi essenziali age di elevata qualità appartenenti alla famiglia degli omega 6 e omega 3 in quantità ottimale e associati in un rapporto ideale migaderma di aiuto nel controllo dei problemi dermatologici del cane e del gatto e in particolare nelle allergie poica copyright possiede due azioni complementari aiuta la ristrutturazione dell'integrità cutanea controlla i fenomeni infiammatori rossore e prurito migaderm sostiene le difese naturali dell'organismo che mantengono l'animale in piena salute posologia problemi dermatologici uno sacchetto al giorno confezione per quattro settimane utilizzo per otto settimane da ripetersi in funzione delle indicazioni del vostro veterinario mantenimento della salute di cute e pelo uno sacchetto ogni due giorni confezione per otto settimane da ripetersi in funzione delle indicazioni del vostro veterinario versare il contenuto sul cibo abituale del vostro animale quindi mescolare il gusto di megaderma particolarmente apprezzato da cani e gatti fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato grazie a tutti grazie a tutti